Buon pomeriggio a tutti ragazzi del vostro cartel Curva Nord e benvenuti in questo video. Ragazzi, obiettivo 4.000, dai forza su, andiamo avanti. Dai, 4.000 iscritti e pollicione in su. Questo video non è calcistico, questo video è solamente un mio pensiero, nient'altro. Allora, voi lo sapete che io sono una persona molto diretta e le cose ve le vengono a dire sempre, comunque. Quindi adesso è arrivato il momento in cui io sono portato a dire determinate cose fino a prova contraria. Il mio canale è come se fosse una piccola azienda individuale, quindi sono libero e padrone di esprimermi come cazzo mi pare e come cazzo voglio io. Allora, ci sono youtuber, ci sono alcuni youtuber che si sono sempre dichiarati amici, ma amici veramente, che hanno avuto tanta e tanta stima l'una con l'altra e poi alla prima occasione utile praticamente dimenticano, dimenticano, dimenticano l'amicizia, che cos'è? Perché il valore dell'amicizia a volte non gli si dà peso, perché a volte si pensa che solamente attraverso youtuber, poi fuori da qua, chi cazzo te sei in cura? Ci sta, ci sta. È un concetto molto condivisibile il vostro, per carità di Dio. Io non dico che non si può essere condivisibile, ma è vero pure, ma è vero pure, che se voi siete delle persone avete un cuore, una testa, un animo, un cervello per poter ragionare e poter dire ciò che veramente pensate di quella persona, oppure non fate i finti moralisti di merda perché non serve a un cazzo. Poi ci sono youtubers praticamente che, grazie alle miliardi, miliardi e milioni, o forse anche due o tre persone, non è detto che sia una cosa globale, crescono grazie, grazie, a colpi diciamo di malfamazioni l'uno con l'altro, dissing su dissing, si cresce appunto parlando male di questo, di quello, di quell'altro, di quell'altro ancora e quindi diciamo ti senti il re potente in assoluto e quindi ci sta, ci sta. Poi ci sono i youtubers leccaculo, i famosi grandi leccaculo, che in poche parole vengono là e cercano sempre di guadagnarci qualcosa dal punto di vista sia umano e sia dal punto di vista appunto sul canale youtube, ci sono anche queste persone che chiedono pietà, te fanno una bella facciata davanti e di dietro te fanno o così o te fanno così. E quindi ci sono anche, purtroppo, dico, persone a doppia faccia, questo purtroppo esiste. Purtroppo, ragazzi, esiste anche questo. Ma la domanda di Cartel è questa, che poi ci possono essere miliardi di categorie, non sto qui a elencare le miliardi di categorie di youtubers perché tra questo vogliamo parlare di youtuber che non valgono un cazzo nei loro contenuti, che non sanno cosa cazzo dire, cosa cazzo fare sul youtube, però ci stanno, però ci stanno. E che ci stanno a fare ancora? Non lo so, però ci stanno. Tanto qua vedrai, vedrete, che arriveranno i commenti che ci stai a fare sti cazzo, in questo proprio, eravo già preventivato, quindi non ho paura appunto di questo confronto. Perché io il confronto l'ho sempre aperto, quindi se qualcuno c'è qualcosa me lo venisse sempre a dire. Comunque, quello che voglio più che altro dire, la concezione di questo bel video è che alcune persone non si rendono conto di ciò che fanno, perché la gente passa, fa, va avanti, ma non si rende conto lasciando indietro quello che succede. Perché si va molto avanti, si cerca sempre appunto di andare avanti, di non essere mai però coerenti con se stessi di quello che si fa. E non è praticamente una vostra responsabilità o una mia responsabilità di andare avanti e non guardare come i cavalli, ci avete al paraocchio. Il problema è un problema della società, del mal costume. Perché purtroppo il mal costume, ormai in Italia, è come a barzelletta della politica, se va avanti e non si guarda mai i buffi che hanno fatto fa conto i due anni precedenti. Stessa identica cosa, stessa identica cosa sono i youtubers. Vanno avanti, non si rendono conto. Perché come già ho ripetuto, alcuni si sono reputati persone valide, persone molto valide appunto, amici, molto amici. Ma poi purtroppo vi siete rivelati cosa? Nulla. Vi siete rivelati il nulla. Bella facciata, bella immagine proprio pulita di una persona straordinaria, persone straordinarie, io qua, io là, io sopra, io di sotto. Poi alla fine della sostanza, valevi solamente come il due a briscola. Purtroppo ci sono persone che valevano, che valevano milioni e milioni di euro. Un'amicizia che tu avresti stimato al di fuori di qui. E poi purtroppo ti vedi poi che alla fine non ripaga appunto quello che tu sei. Poi ci sono persone in cui li ignori completamente, però loro in un certo senso devono essere lì puntualmente a giudicarti, a dire, a fare. Questo praticamente è il mondo di oggi, il mondo che attraversiamo oggi, ma non è una responsabilità mia o una responsabilità vostra. Il problema è che le vostre menti sono sempre state chiuse. Se voi aveste un po' più le menti, capirete di chi starei parlando. Quindi voi aprite molto la mente. E poi ci sono persone che giudicano, criticano, vanno avanti senza pietà, i youtubers e anche utenti dei loro iscritti fedeli che puntualmente vengono a romperti i coglioni ogni due per tre. E questo fa di che che cosa litigare o giudicare le persone. Questo veramente, ragazzi, è un concetto che voi ancora non capite. Che fare i fenomeni, purtroppo, siamo tutti capaci. E poi dopo il problema è la realtà che cambia. E poi, ragazzi, c'è l'unica, l'ultima categoria, l'indifferenti. La categoria dei youtubers indifferenti, che è tutto quello che succede intorno non gliene frega un cazzo di niente, di nessuno, di quello che succede. Vanno avanti per la loro strada. E praticamente poi, lungo il cammino, si fanno i cazzi loro e vanno bene così. Ah, scusate, c'è anche un'altra categoria, tipo la mia, da coglione, che ha sempre dato una mano a tutti quanti. Poi c'è chi ha ripagato con la mia fiducia, la mia stitura e la mia amicizia, appunto. Ma alcuni, diciamo se ne so, belli che volati. Quindi, ragazzi, questo bel video era per far capire che ci sono youtuber che scegliete voi la categoria che commenterete, avete più conosciuto youtuber che vi sembravano in un modo youtuber che fate voi. A voi vi lascio la scelta di scegliere la vostra categoria, appunto, di youtubers. Io l'ho solamente fatto questo video perché mi sentivo dentro di farlo, questo video, per voi e soprattutto per me. Quindi adesso lascio a voi, però, pubblico, di commentare e di condividere con me questa cosa. Perché dobbiamo, appunto, confrontarci gli uni con gli altri. Con questo, ragazzi, è tutto. Dal vostro Carta al Curva Nord era un video così, tanto per specificare, appunto, e parlare con voi di alcune cose al di fuori, diciamo, dello sport, del calcio, di tutte queste belle cose che nel mio canale, appunto, vedete, ma mi sono sentito il dovere di farlo, anche perché ne avevo bisogno di poter trovare questo bel video. Quindi con questo, ragazzi, io vi saluto. Mi raccomando, ragazzi, obiettivo 4.000! Forza, forza, 4.000! Like, soprattutto, e un bel commentino di che cosa la pensate anche voi. Ciao, ciao, ragazzi, e sempre forza! Ciao, ciao, ciao!